Stai cercando la giusta protezione per le perdite urinarie? Vuoi sentirti a tuo agio sempre? Prova ora la biancheria intima da donna Saini Lady Pants. Estremamente femminile, di un delicato color pesca. Assorbe rapidamente lasciando una piacevole sensazione di asciutto sulla pelle. Morbido e flessibile, si adatta perfettamente al corpo. È discreta, proprio come la normale biancheria intima. Sentiti sicura femminile, con la nuova biancheria assorbente Saini Lady Pants.